Un'annata eccezionale per il vino ossolano. Parola di Pierfranco Midali dell'Associazione Produttori Agricoli Ossolani. Parla di una stagione perfetta che garantirà bottiglie di elevata qualità e quantità in linea con gli anni passati, sebbene il quantitativo dipenda anche dalla potatura scelta dal viticoltore. In alcuni casi si opta per diradamenti a favore della qualità del vino. Già vendemmiati Bianchi e Merlot sono pronti anche i nebbioli. Il re dei vini ossolani, il prunente, che solitamente viene raccolto a ottobre, potrebbe anticipare la vendemmia alla fine di questo mese. In generale si registra un anticipo nella maturazione delle uve di una ventina di giorni. A patire un po' la seccità sono state le vigne che non hanno ricevuto acqua o gli impianti recenti. Le vigne centenarie ben radicate hanno potuto beneficiare dell'umidità degli strati più profondi del terreno, ha spiegato Midali, aggiungendo che i pochi temporali agostani sono stati un vero e proprio tocca sana ed hanno letteralmente salvato l'annata per tutti. L'acqua ha contribuito a rimpolpare quegli acini un po' avvizziti a causa della mancata irrigazione o della scarsità di precipitazioni. La primavera estate poi, vista la siccità, non ha visto lo sviluppo di malattie delle viti favorite dall'umidità, così non è stato necessario eseguire molti trattamenti sulle piante, salvaguardando il prodotto finale dal punto di vista qualitativo. A questo si aggiunge una gradazione alcolica altissima, rimarca Midali. Per il prunente ad esempio l'attesa è dai 13 gradi e mezzo in su, quando solitamente si attesta sui 12 e mezzo e arrivare alla soglia dei 13 è già un successo. L'annata perfetta, insomma, a fronte per esempio di un 2021 invece è molto difficile per gli addetti ai lavori. Sarà un 2022 da ricordare con una bella scorta di bottiglie in cantina.